Samsung Galaxy A54 5G, sold by four mashup. Scopri il nuovo Samsung A546B Galaxy A54 5G in awesome graphite, senza vincoli di operatore. Compatibile negli USA solo con Tmobile, Mint e MetroPCS, un vero Globetrotter tecnologico. Potenza e fluidità con l'Octa-Core e la grafica Mali-G68MC4, per esperienze senza pari. Fotocamere straordinarie, posteriore tripla e selfie da 32MP, per scatti da professionista. Dual SIM o spazio extra con microSD, connettività 5G e 4G LTE per ogni esigenza. Schermo da 6,4 pollici, immagini vivide e dettagliate grazie a una risoluzione muzzafiato. IAL Galaxy A54 5G, dove design, potenza e fotografia si fondono in un capolavoro tecnologico. Rated 4.5 stars. Order today for 293 euro.